L'offerta di cassa di risparmio in ambito di superbono si articola in due linee di credito distinte a seconda che i richiedenti siano persone fisiche o condomini o imprese. Nel caso di persone fisiche e condomini abbiamo un finanziamento che copre fino al 100% delle spese sostenute per l'intervento di riqualificazione energetica, mentre nel caso delle imprese l'importo messo a disposizione su una linea anticipo contratti sarà proporzionale al credito d'imposta che andrà a maturare. Le anticipazioni avverranno a stato avanzamento lavori e le linee potranno essere decurtate o estinte ai vari stati avanzamento lavoro nel momento in cui il credito d'imposta maturerà e potrà essere ceduto alla banca. Il prezzo di acquisto del credito d'imposta varia in ragione di quello che può essere il richiedente o il tipo di credito d'imposta ceduto. Nel caso di superbonus sui privati condomini applichiamo un prezzo pari a 102 euro ogni 110 euro di credito d'imposta maturato, mentre nel caso delle imprese applichiamo un prezzo pari a 100 euro ogni 110 euro di credito d'imposta maturato, mentre nel caso di altri bonus edilizi applichiamo un prezzo che varia in ragione della durata di godimento degli stessi, ovvero nel caso di bonus fiscali con durata decennale applichiamo un prezzo pari a 80,5 euro ogni 100 maturati, mentre in quelli che hanno durata 5 anni applichiamo un prezzo pari a 92 euro ogni 100 maturati.